Ciao a tutti, sono Giuseppe D'Angelo, proprietario del negozio Effetto Ottico. Regalare un occhiale è una idea meravigliosa, soprattutto a Natale. È una grande sorpresa, quindi chi lo riceve è bellissimo. Ma chi lo va a comprare è sempre indeciso su tutto ciò che deve regalare, perché non sa che cosa regalare. Un occhiale rotondo, un occhiale quadrato, un occhiale a goccia, un occhiale sagomato. Quindi è molto difficile. Si può ovviare a tutto ciò ricevendo o facendovi fare un buono tipo questo, da parte del negoziante, e ovviate questa difficoltà. Capisco che non avete l'occhiale fisico lì in quel momento, però in ogni caso è bellissimo perché regalate un oggetto molto bello. I pacchetti sono diversi, quindi ci sono dentro i buoni, per Natale o per altre occasioni, tipo questi qui. Quindi se volete regalare un occhiale, acquistate un buono e farete sicuramente una bella figura. Grazie a tutti! Grazie a tutti.